me l'avete chiesto in tantissimi oggi si parla di teetering ma subito dopo la sigla ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video cosa si intende per teetering la possibilità di fare una fotografia e dopo mezzo secondo un secondo quella fotografia andrà direttamente sul vostro computer questa è una modalità di scatto che prima di avere il mio studio non ho mai utilizzato l'ho sempre vista utilizzare da persone in studio tramite social tramite youtube eccetera eccetera ma non avevo mai provato e sinceramente anche solo a guardare quello che facevano gli altri non trovavo una grossa utilità in questa tecnica di scatto invece ragazzi è veramente super utile infatti da quando ho aperto questo studio dal giorno 1 ho utilizzato il teetering e non ho mai fatto uno shooting senza averlo attivo e questo perché vi semplifica notevolmente la vita adesso vi dirò tutte situazioni in cui vi può servire il teetering ma vi assicuro che ce ne saranno chissà quante altre a cui non ho pensato del resto come sapete faccio fotografia portrait quindi il mio utilizzo è relativamente a quel tipo di fotografia ma immagino che per chi fa food per chi fa still life eccetera eccetera comunque altri generi fotografici ci saranno comunque altre cose super positive da dire sul teetering partirei con il dirvi che avete bisogno di una macchina fotografica chiaramente un computer mac o pc è la stessa cosa un software nel mio caso sono andato a utilizzare lightroom ma all'inizio ho utilizzato anche capture one adesso ci arriviamo e poi possiamo o utilizzare il wifi della macchina fotografica che va ad attaccarsi al mac e manda le foto senza bisogno di cavo ed in ultimo abbiamo bisogno del cavo di teetering questo per capirci all'inizio appena aperto lo studio cosa ho pensato ma ti pare che vado in giro con il cavo in mezzo allo studio con la macchina fotografica non mi piaceva l'idea quindi ho cercato in modo di poter utilizzare questa funzione in wireless e ragazzi spoiler ci sono riuscito anzi ci sono riuscito così e così allora dovete avere capture one software che io non utilizzo per la mia produzione però l'ho scaricato e ho provato ad utilizzare appunto il teetering in wifi e con a 7.4 quindi macchina sony e tutte quelle dopo questa cosa si può fare la macchina fotografica andrà a creare una rete wifi poi dal vostro mac vi attaccate a quella rete capture one capisce che c'è la macchina fotografica e dovrebbe funzionare tutto a meraviglia cosa che nel mio caso sinceramente non è andata proprio così nel senso che ogni volta che spegnete la macchina fotografica si spegne la rete e poi il mac per riattaccarsi alla rete ci mette un sacco di tempo secondo c'è un consumo eccessivo di batteria da parte della macchina fotografica normalmente con una batteria scatto mille mille cinquecento foto se lo utilizzate in quel modo lì vedrete che vi durerà tre quattro cinquecento scatti quindi la batteria si consumerà veramente tantissimo e per di più sarà veramente quasi impossibile mandare il raw dalla macchina a il computer questo perché la rete wifi è lenta ho provato i primi 4 5 shooting ho visto che mi poteva piacere la cosa e come al solito sono andato a comprare il cavo allora cavo di tethering questo della tether stool ve lo lascio qui sotto in descrizione sicuro esistono altri cavi che costano meno questo costa quasi 80 euro ed è un'esagerazione dovete trovare un cavo type c o comunque con la porta che vi interessa a voi tra macchina e computer e in teoria secondo me tanti altri cavi funzioneranno però se comprate questo che vi rinco qui sotto in descrizione chiaramente non avrete alcun problema siccome mi son detto ho uno studio utilizzerò tanto il tethering compriamo il cavo buono e non ci penso più in ultimo avrete bisogno di questo aggeggetto qua che si va a mettere sotto la macchina fotografica per tenere il filo in tensione questo perché chiaramente avendo un filo attaccato alla macchina fotografica voi mi muovete potete o rovinare il filo o rovinare la macchina fotografica questo aggeggino si attacca a una vita da un quarto quindi di solito sotto io rig quindi la metto un po in giro ferma il filo e voi siete tranquilli anche questo lo fa tether stool questa volta non l'ho comprato originale lo trovate su amazon non mi lascio il link anche di questo l'ho pagato 10 euro e funziona una bomba atomica di che abbiamo bisogno di un software io ho utilizzato lightroom dopo vi faccio vedere come utilizzarlo e ragazzi funziona tutto da dio non ha mai sbagliato un colpo ho sempre avuto le mie foto nel posto giusto mi spiego meglio quando voi andate a scattare io ho impostato la mia macchina fotografica che le foto vanno sulla prima scheda anzi iro vanno nella prima scheda poi c'è il backup sulla seconda scheda della macchina e poi magicamente troverete iro direttamente sul vostro mac quindi perché scattare in tethering prima cosa non dovete fare backup tra macchina e computer e questa è una figata ogni volta che tornavo a casa dopo uno shooting prendevo la sd come prima cosa la mettevo nel computer e prendevo i dati così avevo almeno due backup al volo invece in questo caso avrete già il doppio backup e non ci pensate più quindi già questa secondo me è un'ottima cosa seconda cosa per la quale utilizzare il tethering beh la più semplice si può intuire potete andare a utilizzare un monitor per vedere le vostre foto molto più grande se utilizzate su un portatile avrete un 14 pollici di monitor 14 16 una roba del genere se invece andate a mettere un monitor esterno avrete un monitor molto più grande nel mio caso lì dietro c'è il carrellino di tethering dopo ve lo faccio vedere con il mac più un monitor di azopa da 16 pollici costa poco è stato frutto di una collaborazione che è arrivata prima di avere lo studio quindi è cascata proprio a fagiolo e come vedete l'ho messo verticale tanto scatto sempre in verticale e 16 pollici in verticale mi permettono di vedere la foto anche da abbastanza lontano magari in futuro andrò a mettere un monitor dedicato e magari anche un monitor fotografico adesso ci arrivo su questa cosa però già così con un 16 pollici verticali vi dico la verità funziona tutto alla perfezione terzo motivo per il quale utilizzare il tethering se siete su un set lavorativo con un cliente una cosa è scattare aspettare andare dal cliente far vedere le foto continuare eccetera eccetera cosa ben diversa è girare quel monitor lì verso il cliente voi scattate e il cliente si vede le foto in tempo reale nulla di più facile voi rimanete nel posto vostro cliente rimane al posto suo tutte e due vedrete le foto scattate nello stesso momento quindi super interessante questa cosa anche per far correggere il tiro alla persona che viene scattata nel senso si vede in posizioni strane si mette a posto eccetera eccetera questo già mi è successo parecchie volte e sinceramente veramente super comodo altro motivo per il quale andare a utilizzare il tethering è quando siete in tanti su un set qui mi è successo già due volte c'era il truccatore l'hairstylist lo stylist la modella mi sembra il ragazzo della modella non mi ricordo insomma erano tante persone almeno 5 o 6 erano più me e mentre lo stylist cambiava la modella ed era da solo il truccatore quando truccava stava lì da solo il ragazzo stava seduto lì e stava da solo il parrucchiere stava fermo lì a fare i capelli e stava da solo nel momento in cui ho dovuto scattare io tutte queste persone mi sono messe appiccicate per vedere da due da due pollici di schermo cosa stavo facendo ragazzi è stato veramente un disastro questo è l'aneddoto dello studio che sto raccontando di più in questo momento è stato veramente un disastro e questo è successo perché stavo utilizzando capture one non stava funzionando in quel momento e non avevo quindi il carrello di tethering funzionante un altro shooting mi è successo assolutamente la stessa identica cosa ma il carrello di tethering funzionava l'ho messo dall'altra parte dello studio e tutte quelle figure professionali che stanno intorno allo shooting stavano dall'altra parte a guardare le foto in tempo reale mentre io lavoravo in pace e questo è veramente tantissima roba altro motivo per il quale il tethering è una figata atomica se siete in un set nel quale il cliente o comunque qualcuno deve selezionare le foto che voi dovrete andare a editare dopo anziché arrivare a casa scaricare i file mandarli con i transfer aspettare che quella persona capisca come guardarle poi fare lo screenshot o scrivere il numero che vi serve a voi insomma disastro sapete cosa fate la cosa più semplice del mondo quando siete a fine shooting anzi quando avete finito lo shooting da lightroom create i jpeg un po' compressi se volete ci mettete la scritta provino ci mettete la scritta di qualcosa in modo tale che non vi utilizzano le foto se usate un mac al 90% la gente all'iPhone quindi voi non fate altro che fare un bel airdrop il cliente o la persona è super contenta perché si trova già tutte le foto sul telefono e vedrete che non dover mandarle su i transfer e darle immediatamente vi farà passare sicuramente come un professionista molto più professionale rispetto agli altri queste sono solo alcune delle cose per le quali mi piace scattare in tethering e invito tutti voi a provare però ragazzi sicuramente ce ne sono tante altre che o non mi vengono in mente in questo momento o appunto come vi dicevo prima servono per altri generi fotografici ok per farvi vedere al meglio quello che c'è su lightroom o come impostare la macchina fotografica chiaramente ho bisogno della macchina fotografica il che vuol dire che sto utilizzando Osmo Pocket 3 per questa parte quindi sarà un po' più così qualitativamente però almeno vi faccio vedere tutto a questo punto andiamo a prendere il cavo di tether stool ok come vedete ho preso un Type-C Type-C che finisce a L in modo tale che quando lo vado a mettere sulla mia macchina fotografica vedete non mi dà alcun fastidio dopodiché andiamo ad utilizzare questo accessorio qui di cui vi parlavo prima quindi andiamo a inserire il cavo e andiamo a bloccarlo adesso ve lo faccio vedere vedete come sta bello fermo? se io muovo il cavo il cavo non va da nessuna parte quindi non corro rischio né di rompere il cavo né di rompere la macchina fotografica super comoda questa cosa qui a questo punto andiamo su Lightroom adesso non dobbiamo fare altro che prendere l'altra estremità del cavo e andarla ad inserire nel Mac a questo punto andremo su File Acquisizione diretta Avvia acquisizione diretta qui ci chiederà il nome della sessione io come vedete ho scritto Vale poi abbiamo il nome della sessione io ho lasciato sequenza non mi interessa come vedete ho già fatto 5611 foto col tithering poi dovete andare a scegliere il percorso di dove andranno le vostre foto in questo caso io le ho messe su download ma poi le sposto sull'SSD esterna e poco altro diamo ok e come vedete esce questo pannello che è molto ma molto ma molto interessante perché fino adesso vi ho detto che voi scattate e la foto va al Mac ma con questo pannello abbiamo la possibilità di scattare direttamente dal computer quindi come state vedendo possiamo andare a modificare tempi ISO e diaframmi molto interessante magari per chi ha la macchina fotografica su cavalletto in qualche posto strano è difficile arrivarci voi fate tutto da qui e scattate direttamente da qui ma non solo perché c'è addirittura anche la possibilità di andare a vedere quello che vede la macchina fotografica adesso ve la metto verso il limbo eccolo lì aspettate perché ce l'ho in log ecco fatto come vedete vedo in tempo reale e posso mettere a fuoco posso andare appunto a cambiare i parametri macchina e posso scattare con questo tasto ecco qua abbiamo la nostra foto già bella che pronta vi ripeto questa cosa chiaramente non la utilizzo perché devo stare lì sempre con la macchina in mano dopodiché come vedete qui nel modulo libreria abbiamo già due foto che sono quelle appunto che abbiamo appena fatto grazie a questo comando ma cosa faccio io aspettate che forse se metto il carrello così riuscite anche a vederlo vado a schiacciare questo tasto e magicamente mi arriverà un'anteprima della foto scattata a tutto schermo ora questa l'ho fatta in maniera orizzontale ma normalmente le faccio verticali e se vado a scattare una foto in verticale come vedrete mi occuperà praticamente tutto il monitor molto 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 comodo adesso faccio una foto all'osmo pocket solo per farvela vedere anche se è un po' sovraesposta non importa vedete che figata e in questo momento voi state vedendo direttamente il raw che c'è dentro la macchina fotografica che viene spostato appunto sul mac altra cosa molto interessante è questa adesso ve la faccio vedere un attimo allora troviamo un soggetto da inquadrare ad esempio quel gvm lì questo sarebbe lo scatto di prova che io vado a fare prima di uno shooting cioè la modella sta ferma, le luci sono messe, faccio uno scatto di prova e vado a vedere se mi rendo conto che c'è qualcosa che non va come ad esempio la temperatura colore piuttosto che la saturazione insomma qualsiasi cosa che non va nella foto la prima cosa che vado a fare è a post produrla infatti io posso andare in sviluppo e posso andare chiaramente visto che è un raw a mettere a posto la foto come voglio adesso vi metto la luminosità al massimo così anzi l'esposizione al massimo così capiamo che questa foto qui è quella post prodotta e la cosa più comoda del mondo è su questo pannello andargli a dire su impostazione di sviluppo come precedente infatti adesso senza andare a toccare parametri macchina se io vado a fare la stessa foto lì vedrete che esce una foto normale ma poi verrà applicata questa esposizione è così per tutti gli altri parametri quindi se noi andiamo ad utilizzare ad esempio un preset su una foto si prenderà quel preset per tutte le altre foto e praticamente avrete le foto già post prodotte vi faccio vedere vado a fare più o meno la stessa inquadratura vedete ha applicato l'esposizione che ho utilizzato prima molto 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 comodo questo lo vado a disabilitare perché fra 20 minuti ho uno shooting e non vorrei far casini all'interno della libreria troveremo già i nostri RAW e niente potete appunto come vi dicevo prima andare a creare i JPEG e inviarli tramite AirDrop tramite internet potete andarli a lavorare direttamente quindi ragazzi è tutto estremamente semplice per utilizzare tutte le funzioni che avete appena visto dobbiamo fare due cose sulla nostra macchina fotografica spero che riusciate a vederle così altrimenti a casa mi invento un altro modo allora andate in questo menu e impostate su modo call usb ripresa remota ok quindi stiamo dicendo alla macchina fotografica che quando attacchiamo il cavo usb c deve fare appunto il tethering seconda cosa che dobbiamo andare ad impostare sulla macchina fotografica è la seguente postiamoci su questo menu entriamo qui dentro impostazione remota e come vedete qui abbiamo un po' di cose da settare allora destinazione più fotocamera vuol dire che la foto rimarrà dentro la nostra fotocamera e andrà anche sul mac o sul computer comunque su Lightroom possiamo addirittura andare a dire cambiando questa impostazione di mandare la foto direttamente a Lightroom e di non mantenerla in memoria qui sulla macchina e in questo caso potete scattare addirittura senza SD non uso questa funzione preferisco avere le foto sia da una parte che dall'altra per avere già un backup istantaneo poco sotto abbiamo dimensione immagine salvata potete o mettere un'immagine più piccolina o chiaramente andare a mettere l'immagine originale e io ho scelto originale e poi abbiamo dimensione immagine jpeg salvata e qui decidete se farla grande o piccola ragazzi possiamo andare a mandare a Lightroom anche solo il jpeg se scattiamo il raw più jpeg possiamo scegliere cosa mandare appunto su Lightroom io scatto solo il raw e quindi solo il raw può passare appunto su Lightroom ok ragazzi siamo giunti al termine di questo video spero che vi sia piaciuto e spero che vi sia stato utile mi raccomando se così fosse mettete un bel like iscrivetevi al canale se avete qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao